Buongiorno a tutti intanto. Come dice giustamente la scheda, Mijailo è il quinto giocatore serbo che arriva in società. Riprendo un po' le parole del mister ieri dove dice che Mijailo è leggermente più indietro rispetto agli altri e che verrà aiutato per superare gli altri. Dopo alla fine speriamo che il percorso sia oggi più indietro e un domani più avanti degli altri. Anche perché arriva da una sosta più lunga nel loro campionato perché loro hanno finito il 20 perché avevano un recupero. Comunque il campionato era finito l'11 per cui questa sosta l'ha portato ad arrivare qua leggermente più indietro ancora rispetto agli altri. Un giocatore che conosciamo benissimo perché quest'anno l'abbiamo seguito parecchie volte sia in nazionale che in campionato. In nazionale in under 21 perché ha fatto le qualificazioni giocando 5 partite. In campionato quest'anno è partito titolare su 19 partite 18 volte e ha realizzato anche un gol ed è stato convocato grazie a queste 18 partite e soprattutto quelle 5 in nazionale under 21 con la prima squadra. Non ha dibuttato però già fatto che sia nel giro della prima squadra ci fa ben sperare per il suo futuro. Giocatore di personalità, bravo nella costruzione dal basso. Glielo chiederete dopo voi. Mi risulta che abbia fatto qualche volta anche il centrocampista davanti alla difesa. Buona gestione della palla, veloce. Dobbiamo aspettare che tutte queste bellissime qualità che ha crescano per poter poi giocare nel nostro campionato e nel nostro Bologna. Io direi che la mia breve introduzione è finita e lascerei la parola a voi per Mihailo. Ciao Mihailo, Luca Pinkerle, ETV Rete7. Innanzitutto benvenuto a Bologna. Perché la scelta di Bologna e se visto anche dalla Serbia il campionato di Serie A immagino sia forse il campionato di riferimento e che cosa conoscevi già di Bologna e della società. Mihailo, se vuoi faccio io. Perché hai scelto Bologna? Quale era la tua percezione della Serie A? La principale referenza, diciamo, che la Serie A è uno dei più importanti per i serbiani, i futbolisti, dove possono essere. e cosa conoscevi già di Bologna e di vostro punto di vista in Serbia? Grazie per la benvenza. Mi sapevo che Bologna è un grande club con una grande tradizione. Mi sapevo che tutta la città vive dal club. non mi sono in centro della città di Bologna, ma mi sono andato molto presto. E' la prima domanda. La tua percezione è la Serie A, e perché hai scelto di venire? Ho scelto di Bologna perché penso che per me è la migliore opzione. perché c'è la tua scelta di Bologna e la squadra di Bologna è una scelta che la squadra di Bologna in una scelta di Bologna. Per la Serie A. Questa è la scelta di Bologna. Ho scelto di Sermia perché c'è la squadra di Bologna, perché c'è la squadra di Bologna. e credo che prepariamo la settimana per la settimana e non lo sappiamo. Lo farò perché l'ho scelta, era la migliore opzione per me, è una squadra che fa crescere molto i giocatori giovani, li fa diventare dei buonissimi giocatori, sicuramente il cambio dalla Lega Serba a quella di Serie A lo sentirò perché questa è una Lega molto difficile ma mi voglio misurare ovviamente in questo campionato. Benvenuto Massimo Vitali, resto del Carlino, è una domanda se vuoi banale ma ti chiedo se ovviamente sai chi è stato Sinisa Mijajlovic, cosa rappresenta per voi serbi e sai quello di importante che lui ha fatto qua oltre purtroppo alla fine drammatica della sua storia italiana. Grazie per la domanda, grazie per la domanda. Grazie per la domanda. Grazie per la domanda, grazie per la domanda e un po' come pazza e vediamo che per la domanda italiana, qual è corso l'Italia e la domanda. La domanda, grazie per la partita di nuovo, è stato un po' come l'ho. Tutti noi sappiamo chi è stato Sinisa Mihailovic come uomo, come giocatore è stato un grandissimo combattente, è un idolo per noi giocatori serbi e spero di dare continuità a tutto quello che ha fatto di buono per il calcio italiano e per il Bologna Se ti puoi descrivere come giocatore, il direttore parlava anche del fatto che hai giocato anche qualche gara centrocampo Se è così e visto che sei stato anche già visionato dalla Nazionale Maggiore Serba, che cosa rappresenta per te? Se ti puoi descrivere come giocatore, il direttore ha detto che hai giocato anche come giocatore e cosa fosse per te per il serbio nazionale squadra in l'U21? Cosa rappresenta per te il serbio nazionale squadra in l'U21? Se ti puoi descrivere come giocatore e se hai giocato nel midfield? Ok, per le nuove squadre, prima di partizanze, ero giocato nel midfield e per il nazionale, ero giocato per il center defender e i miei migliori skilli sono magari passare tra le linee e riuscire il gioco, riuscire la situazione sul pitch e magari un buon scopo Sì, nelle giovanine del partizan ho giocato da un centrocampista più difensivo in realtà poi quando sono passato nella prima squadra sono stato adattato a centrale di difesa come abilità, leggo bene il gioco, riesco a fare ottimi passaggi tra le linee e posso dire di essere un discreto saltatore Ciao, benvenuto, Francesco Livorti, Canal 88 ti chiedo se hai parlato con Tiago Motta cosa ti ha detto e se ti sei fatto dare qualche suggerimento anche da qualche tuo compagno difensore Bologna ha avuto buoni giocatori e magari è il migliore allenatore il migliore allenatore Il migliore allenatore Tiago Motta ha parlato con lui e mi parlato con lui per rilassare per migliore per migliore per migliore per migliore per migliore e magari Magari mi dice che questo è un lavoro difficile, ma lo accetteremo e mi adatteremo a giocare con lui. Mi porterà a migliorare, io sono disponibile ad adattarmi alla sua forma di lavoro, quindi sono contento di lavorare con lui. È cresciuto con un idolo, un modello di crescita, oltre a Senisa Mialovic? Il mio campo è Sergio Ramos, potrebbe essere il miglioro giocatore del mondo, perché è un grande battaglio, ha tutto quello che oggi ha, il centro di difensiva, quello che ha. Mialovic, Nastasic, che cos'ha di speciale il Partizan per costruire dei difensori forti? E qual è la caratteristica principale che insegna il calcio serbo? Cioè un calciatore serbo la sua caratteristica principale qual è? La sua caratteristica è una grande battaglia e una grande caratteristica. perché siamo arrivati a un piccolo paese, perché siamo arrivati a un piccolo paese, perché siamo arrivati a un piccolo paese e siamo arrivati a un'occhiata per un'occhiata migliore. E' tutto questo. e quindi che abbiamo del carattere, questo sicuramente ci aiuta. Ciao Miaulo, benvenuto. Johnny Forlenza, Tutto Bologna Web. Dove senti di dover ancora migliorare tecnicamente? Nicola minuscola, Tutto Bologna Web. Dove? 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 Penso che ho migliorato la mia velocità per giocare e alcuni dettagli tattici per il gioco. Grazie. Le tue prime impressioni del centro tecnico di Casteldebole? Il centro tecnico è di grande livello, è molto grande, ci sono ottimi campi e c'è un ottimo spazio di lavoro per migliorare. C'è un giocatore che è marcato in questi giorni e che ha avuto difficoltà a farlo e cosa ne pensi di Joshua Zirgze? C'è un giocatore che è molto difficile per il trening. La mia prima opinione per il trening è che Joshua è un giocatore molto buono, ha giocato per l'Agera, per l'Agera. L'Agera è un giocatore molto buon giocatore e magari il miglior sentimento per lui è che lui è straordinario per il trening. E sicuramente tecnico. E' una buona forza oltre che un'ottima tecnica. Ero curioso di sapere qualcosa in più della sua famiglia, se c'è il calcio nella sua famiglia, come vivono il calcio a casa. C'è un giocatore che non si trova di più di più, ma che si trova il tempo di fare? C'è un giocatore che mi aveva un giocatore per l'Agera. C'è un giocatore che mi aveva un giocatore, il mio padre giova un giocatore. e tutti mi hanno dato supporto per ogni match, ogni training, tutti che mi piace per Bologna, per l'Italia e tutti è bene. In ogni allenamento mi piace molto la città, mi piace stare qui, quindi siamo contenti. Volevo sapere se stanotte pensa di dormire, visto che domani entrerà in campo sul prato di San Siro. No, non ho problemi per dormire perché spero di andare a questo livello per la Liga e non posso aspettare per giocare prima di Dallara e domani è San Siro. Credo di non aver problemi a dormire sicuramente stasera perché sono venuto qui per giocare partite di quel livello. Prima di tutto non vedo l'ora di scendere in campo ad Allara ma sono comunque pronto per essere a San Siro domani sera. Una curiosità, se sei tifoso di basket, visto che il Partizan ha anche una grande tradizione e se rimane andato a vedere anche contro la Virtus in Eurolega. Sì, vedo che stavi smicci. Scusi se sei un fan di basket, se ti segui il Partizan e se hai la possibilità di vedere anche per la Virtus di giocare contro il Partizan in Serbio. Sì, mi smicci perché ho capito la domanda. Sì, mi piace il basket, mi piace guardare il Partizan, Bologna, Virtus, tutti i team in Eurolega. Sì, per sicuramente andremo a casa per vedere il Partizan in Virtus. La prossima settimana? La prossima settimana sì. Ho iniziato a ridere perché ho capito la domanda, sicuramente mi piace molto il basket, sono un tifoso del Partizan di tutte le squadre che giocano più o meno in Eurolega, sto seguendo abbastanza. La prossima settimana sicuramente sarò a Palazzo a vedere la partita.